Per te imprenditore, nel labirinto della burocrazia amministrativa, raccogliere la documentazione ufficiale della tua impresa può essere non solo complesso, ma anche oneroso in termini di costi diretti e indiretti. Per superare tutto questo nasce impresa.italia.it, il cassetto digitale dell'imprenditore. È un servizio offerto dalle Camere di Commercio d'Italia, realizzato da Infocamere. Grazie a tutti.